i primi due giri c'è da balordi e quindi io ho fatto 70 ah si ecco balordi nel senso che fa schifo oh ma chi scende a napoli il 14 novembre o chi sale a napoli perchè che c'è 14 minuti al 14 novembre o ma non fa un po' la c'era torneo live gtr aereo un torneo che organizzano bomba e me la libro è una cura roma finale a roma l'onore a tutti a roma si a roma io faccio pure il torneo per chi è stato escluso un'altra e se non vinco quello porca madonna manco intorno lì ci puoi partecipare solamente chi è stato escluso o chiunque no no tutti tutti silenzio raga no eccolo 1 12 94 grande 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 bravo 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 bravo